Ora va bene che i gay stanno prendendo il sopravvento, ma mettere il grillo fuori legge, sembra uno scherzo, sembra un titolo, no ma io ho una bestia, le bestie ancora sono secondo la legge. L'avvocato Rossella Giolini, diciamo la simpatica Rossella Giolini che solo lei è in grado di reggere le mie cazzate, ma ormai anche in virtù del fatto. Ma comunque qui hai ragione, lei potrà fare un titolo in questo modo. L'Italia è meravigliosa, si sono accorti di un articolo della Costituzione che rendeva ineleggibile Berlusconi, che è un articolo se non sbaglio del 1957, cioè io avevo tre anni, ma che cazzo ci stanno a fare lì? Ora che il grillo ha la maggioranza, il primo partito, si accorgono che è fuori legge. Perché dice appunto che c'è una legge, non so di quando è, credo del 54, che dice che i movimenti non possono partecipare ai partiti e quindi per partecipare alle elezioni bisogna essere partiti. Ora se ne accorgono, sì. Renzi ha detto una cosa molto intelligente, ha detto citiamo la zappa sui piedi perché dando del fuori legge a grillo facciamo il suo gioco. Certamente, ha ragione Renzi, è una cosa assurda questa, come dire che Berlusconi è ineleggibile, più dicono che Berlusconi è ineleggibile più ovviamente prende voti e così dire che il Movimento 5 Stelle è fuori legge, che cosa significa? Che la gente poi gli dà il voto ancora più fuori legge. Tra l'altro... Sì, ma che quelli del Partito Democratico capiscono poco, si vede da tutto questo, perché avevano la vittoria in tasca e gli si è entrato di perdere. Non volevano fare il governo con Berlusconi, hanno dovuto fare il governo con Berlusconi. Non hanno preso in considerazione Grille, si sono fatti prendere una marea di voti. Quindi io sono contenta, per l'amor di Dio, però in effetti i dirigenti del Partito Democratico hanno dimostrato di non capire un accidente. Diciamo che l'avevano in tasca, ma in effetti l'hanno avuto in tasca. Sì, io invece dicevo la vittoria, l'avevano in tasca, convinti di vincere, invece hanno perso, o diciamo che non hanno vinto. Ah, poi tra l'altro l'indagine, pensa come buffa la politica, l'indagine sul fuorileggismo di Grillo è portata avanti dalla Gabbanelli, che non a caso ha vinto... Sì, anche questa, cioè, allora la Gabbanelli ha vinto, lei come si chiamavano, che non me ne ricordo... Sì, insomma hanno un nome strano, le primarie no, insomma, comunque era il loro candidato alla presidenza della Repubblica. Adesso la Gabbanelli, che indipendentemente dalle sue idee politiche, che io naturalmente non condivido, però è una giornalista bravissima e anche obiettiva. Per cui avendo fatto quest'indagine sui finanziamenti al bloc di Grillo, ora si sono, praticamente si accaniscono tutti i grillini contro di lei e quindi questa è l'Italia. Indubbiamente è così, siamo così. E Grillo ha detto che se fosse fuori legge il suo partito, i grillini non andrebbero a votare. Guarda che è un grosso voto, un voto costituzionale. Anche perché ti dico la verità, io ora non so, ma l'elettorato ha votato in maniera, diciamo, equa, PDL e Movimento 5 Stelle. Quindi il Movimento 5 Stelle rappresenta milioni e milioni di elettori che non avrebbero una rappresentanza in Parlamento. Quindi questo sarebbe veramente un attentato alla Costituzione. E' una premonizione, quando non c'è la rappresentanza in Parlamento vai a prendertela in piazza. E c'è chi va con cartelli, c'è chi va con coltelli, con rastrelli, con forconi. Io alla fine se vogliono che arriviamo a questo, io credo che i politici che stanno facendo una bella sega, perché parliamoci chiaro, da quando hanno fatto questo. Ma non perché producono dei strumenti da falegnami, cioè proprio non fanno una sega. Se poi vedono arrivare la gente in piazza e c'è una rivolta, io penso che non sia... Appunto, gli sta bene, gli starebbe bene. Perché sa che è violento le donne. No, gli starebbe bene. Solo quello che mi dispiace è che la sconta è il giusto per il peccatore. Perché intanto il carabiniere poveraccio che era lì a fare il suo dovere adesso è paralizzato e non riacquisterà sicuramente mai più l'uso delle braccia e delle gambe. E intanto loro continuano in Parlamento a dividersi tutta quella marea di soldi che si dividono, tutti compresi lui, compreso il tuo amico lì, che prendono degli ottimi stipendi. E quindi comincino loro a dare l'esempio. Maurizio Bianconi, parlamentare PDL, io devo dire una cosa che devo dissentire. Poi io e la Rossella non abbiamo problemi, ognuno esprime le sue cose. Certamente, ci mancherebbe altro. Io conosco Maurizio Bianconi e ho avuto la fortuna intellettuale di frequentarlo per mesi perché abbiamo scritto due programmi televisivi insieme. Quindi abbiamo passato proprio delle nottate. La mia non è stata... Molto intelligente. È una conoscenza superficiale. Una persona molto intelligente. Una persona molto intelligente e attenta che ha detto. Ha attaccato il Papa. Giustamente perché in Italia si tocca il Papa. No? Dicendo. Ora questo voto di povertà. Dice che la chiesa deve essere povera. Una chiesa che ha lo IOR. E poi si è sposta con l'elicottero. E poi fanno i suontosi appartamenti. Che comincino a dimostrare che c'è la povertà. Smantelliamo lo IOR e i soldi che lo IOR maneggia. Cominciamo a dare per 200 bambini al giorno che muoiono di fame. Perché è facile. Domandolo. Visto lo spot. Domandolo. Domandolo a 200 che muoiono di fame. E no a padre... Stavo per dire il nome. Lasciamo fare. Padre Prano. Padre Prano. Te che c'hai il Bianconi. Ma è giusto. Che ti dai un'ora del Bianconi. No no no. Ha ragione. Ma cominci lui a dare l'esempio. Perché non comincia a dimezzarsi lo stipendio? Ma chi? Bianconi. Cominci lui a dare l'esempio. Dai. Perché non si dimezza lo stipendio Maurizio Bianconi che fa tanto diciamo giustamente. Il Papa si devono spogliare dei loro beni e tutti quanti. Cominci a fare lui come hanno fatto i grillini. Che si sono dimezzati lo stipendio e hanno rinunciato la diaria. Invece di prendere la pensione da consigliere regionale che c'è stato 50 anni in consiglio regionale e ora prenderà la pensione e gli stipendi da deputato. Cominci lui a ridurre di metà che sarebbero sempre ottimali. Sarebbero sempre un ottimo reddito. Un ottimo stipendio. Cominci lui a dare l'esempio. A diminuire il suo reddito al 50%. Lo dà ai poveri e poi si permetta di parlare del Papa e di tutti gli altri. Ma cominci lui a dare l'esempio. Perché lui chiacchiera parecchio ma dell'esempio ne dà poco. Ascolta, sul vestire spende poco. Diciamo un bracale. Voglio dire, sul vestire l'ha mai buttato via. No, quello sicuramente. Allora, l'unica cosa, l'unico appello che voglio lanciare che c'è questo consigliere del PDL, Francini, che ha deciso di intitolare una strada a Enzo Tortora, ad Arezzo. Io lo imploro di desistere perché a Arezzo, cioè, metti una via Tortora, pensa ci sia la migrazione, ci fanno i capanni. Secondo me... Ci vanno a tirare. La rettina, sì. La rettina, i capanni. Ci avviano tolti, la rettina di passino. Sicuro sarebbe così. Va bene. Va bene. Sargi, mi fanno toccarsi al biancone e tutta la sua porfora. Bene, appunto, quella tanta. Ci vanno a tirare.